E' stato sorpreso con un fucile carico in atteggiamento da caccia, ma la richiesta di esibire la licenza di porto d'armi e la documentazione necessaria all'esercizio venatorio ha dichiarato di esserne sprovvisto. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri forestali in località Carmine di Archi, nel comune di Reggio Calabria, nel corso di un pattugliamento mattutino in occasione dell'apertura della stagione venatoria 2024-2025. Le successive verifiche effettuate hanno rivelato che l'arma che è stata sequestrata assieme ad alcune munizioni era clandestina, sequestrata anche la vifauna selvatica battuta illegalmente dall'uomo che è stato denunciato anche per cattura e detenzione di specie protette, recettazione e porto abusivo di armi e munizioni.